Annuncio cancellazione treno, il treno regionale 10, 5, 2, 7, il treno nord previsto in arrivo da Brescia alle ore 14.38, oggi non è stato effettuato. Annuncio cancellazione treno, il treno regionale 10, 5, 3, 0, 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 il treno regionale 10, 6, 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 0, il treno regionale 10, 6 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.